Ciao a tutti! Prima di cominciare, sigla! Come vedete dal titolo, oggi sarà la mia rubrica Come sarebbero, ovvero ho scelto due VIP per questo caso il mondo della musica e l'ho fatto diventare una donna, un uomo fatto diventare vecchi, come dico io, supernonni e se, 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 se sarebbero, se sono, se stanno con me, se, se avversano i figli Come sono? Scropperete guardando questo video Supernonni Per me niente male è fatta la raposina da nonna Anche, anche il nec niente male Come sarebbero? Che bello se fosse un uomo, era proprio così Anche il nec e la donna niente male è fatta Figli Che potuto figlio Mamma mia E se questa è bellissima Anche questa è bellissima Anche lui è bellissimo Bene, questo video si chiude qua Se il video vi è piaciuto mettete un like Chivertivi al canale Ma prima di salitarvi Una cosa devo dire Se la vostra vita è grigia Solidete Perchè avete aiuto a sora Ciao alla prossima